Due persone conferite da arma da taglio sono state ricoverate all'ospedale San Martino di Genova in codice rosso. Ieri sera, poco dopo le 22, infatti gli operatori della Croce Rossa e della Croce Verde di Cogorno e Carasco e i vigili al fuoco del distaccamento di Chiaveri sono intervenuti in un'abitazione di Celesia, frazione di San Colombano-Certenoli. Sono stati i pompieri a recuperare i feriti che si trovavano in una mansada inaccessibile ai sanitari. I carabinieri della compagnia di Chiaveri propendono per una rapina finita male con la fuga dei malviventi. Restano molto critiche le condizioni del bambino ricoverato da sabato sera in ospedale a causa dell'incidente al porto turistico di Lavagna dove l'automobile all'interno della quale si trovava, guidata dal papà, a seguito di una manovra è improvvisamente finita in mare. Il bimbo di sei anni è in terapia intensiva all'ospedale Gaslini di Genova. La mamma ricoverata in rianimazione a Lavagna è stazionaria in prognosi riservata. Il marito è ancora ricoverato in condizioni cliniche migliorate e stabili. I due figli sono dimessi oggi affidati ai nonni. L'equipe di sostegno psicologico continua a sostenere il papà e i due figli. Ieri mattina un'imbarcazione a vela navigava tra Genova Nevi e Recco e a causa di un improvviso aumento della velocità del vento delle cime sono finite nelle eliche dell'imbarcazione bloccando anche il timone. La barca ha così iniziato a scarrocciare verso gli scogli. all'altato il 112. I vice del fuoco hanno prontamente inviato la motobarca di Galata Gadda che raggiunta l'imbarcazione l'ha presa al traino e riportata in porto in sicurezza. Il difensore civico di Regione Liguria Francesco Cozzi nella sua veste di garante per il diritto alla salute ha scritto a Lanci perché solleciti i comuni ad adottare il piano per regolamentare l'installazione di impianti di telefonia mobile. Con l'avvento della tecnologia 5G gli impianti si stanno moltiplicando sul territorio ma solo 13 dei 235 comuni Liguri si sono dotati di una regolamentazione che impedisca l'installazione delle antenne nelle cosiddette aree sensibili come scuole, ospedali, parchi, case di riposo e luoghi di pregio ambientale. Cittadini e comitati spesso lamentano l'installazione di impianti anche di grandi dimensioni e potenze in aree di pregio ambientale e culturale e il difensore civico invita dunque i comuni a dare attuazione alla pianificazione delle sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. I regolamenti possono individuare le aree idonee, quelle non ritenute tali, e prevedere il divieto di installazione degli impianti in corrispondenza di siti sensibili. Il 6 giugno 1984 Enrico Berlinguer venne a Sesti Levante per inaugurare la sezione del partito comunista della frazione di Riva. Fu l'ultimo comizio prima di quello di Padova del giorno dopo in cui il segretario del PC ebbe il malore che lo portò alla morte l'11 giugno evento. Il circolo PD della frazione di Riva organizza per venerdì alle 17.30 Enrico Berlinguer 40 anni dopo nel locale antistante la Biblioteca del Mare in via Brindue a Riva Ponente. Interverranno l'onorevole Valentina Ghio, Dantino Stagnaro dell'associazione Tiguglio Democratico e Progressista, il segretario del circolo PD della frazione di Riva Gabriel Dell'Uomo e il direttore della fondazione Gramsci Francesco Giasi. Sarà proiettato nell'occasione un breve strato del comizio di Berlinguer del 6 giugno 1984 proprio a Riva. E' entrato in vigore oggi l'orario estivo del servizio ex urbano di IMT che resterà in vigore fino al 15 settembre. La proposta di IMT per questa stagione estiva la forma del Met Daily, lanciato il 15 gennaio scorso con la nuova politica commerciale sperimentale. Si tratta di un titolo di viaggio pensato particolarmente per i turisti perché permette al costo di 10 euro di avere a disposizione per 24 ore dal momento della timbratura tutta la rete urbana genovese provinciale compresa la linea 782 da Santa Margherita Ligora Portofino, Navabus, Volabus e la ferrovia Genova Casella. E' pensato anche per le famiglie e i gruppi di amici che viaggiano insieme grazie alla formula per 4 persone al costo di 30 euro. Per quanto riguarda il servizio extraurbano queste sono le principali novità. La frequenza delle corse sulle linee 782 che collega Santa Margherita Ligora Portofino nella fascia oraria dalle 8.30 alle 19.30 passerà da 30 a 15 minuti con un incremento dell'offerta vista la domanda del periodo estivo. Dal 1 luglio la linea 782 verrà intensificata anche nella fascia serale. A Rapallo le linee 798, 890, 893, 895, 896 e 909, terminati i lavori in via Militegnoto torneranno a transitare sul percorso originario. Pertanto la stazione ferroviaria di Rapallo verrà raggiunta percorrendo via Militegnoto e corso a Sereto. Nel Tiguglio orientale fino al 25 luglio la galleria di Nostra Signora della Guardia a Velva sarà chiusa dalle 6.18 dal lunedì a venerdì. Pertanto durante le ore di chiusura le corse della linea 750 Sestilevante Varese Ligore transiteranno dal paese di Velva. Sabato e domenica invece le cose transiteranno dalla galleria di Nostra Signora della Guardia. Nel Tiguglio centrale a Mezzanego il servizio chiama il bus e passerà dai attuali due giorni di servizio, mercoledì e venerdì, a 6 giorni. Da oggi si potrà infatti prenotare e utilizzare dal lunedì al sabato.